Arezzo perde un'altra grande occasione. Resta fuori dall'otto dei dieci progetti regionali di rigenerazione urbana selezionati nella manifestazione di interesse che si è chiusa lo scorso 31 di marzo e che poteva dare accesso al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Il Comune aveva presentato un piano per la riqualificazione dell'ex Scalomerci, un'area contigua alla ferrovia che si affaccia su Viale Piero della Francesca. Lì sarebbe dovuta sorgere anche la New Public Library, una biblioteca pubblica, moderna, un centro non solo di cultura ma anche di intrattenimento, socialità e relax, un progetto a cui il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli teneva particolarmente. In provincia di Arezzo erano tre i progetti che avevano partecipato alla manifestazione di interesse regionale. Oltre a quello di Arezzo c'erano anche quello di San Giovanni Valdarno e quello collettivo dei comuni di Subbiano, Civitella in Valdichiana, Capoluna e Castiglion-Fibocchi. Il primo è riuscito a rientrare nel novelo dei progetti selezionati finendo quinto nella graduatoria toscana con un punteggio di 75 punti a pari merito comprato. Subbiano, Civitella, Capoluna e Castiglion-Fibocchi avevano invece candidato il progetto di rigenerazione integrata per strutture pubbliche e servizi nei comuni periferici della città di Arezzo. 40 i punti ottenuti. Il posto è il 42esimo nella graduatoria. La manifestazione di interesse comunque non determina in automatico l'assegnazione di risorse ma l'inserimento in un percorso. Le strategie territoriali verranno dunque successivamente sviluppate con il coinvolgimento della regione toscana e dei comuni selezionati. Arezzo tra questi non ci sarà.